Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui finalmente per fare il video dei miei regali di compleanno Quindi come prima cosa andiamo a salutare le ragazze da Instagram Prendo l'ultima foto che ho postato E vediamo se qualcuno me l'ha appunto richiesto Inizio con salutare Georgie262 Quindi Georgie262 con la Y Georgie con la Y appunto Saluto anche Carla trattino basso Sigilli La appunto Rebi con 2 i finale Trattino basso Alessandra Ramos Ari trattino basso Pacito Zero Tra cui mando un grosso bacione E infine Rina trattino basso Pove HR Mando un bacione a tutte Un bacione enorme e grazie mille E quindi mi raccomando Se non vi ho salutato in questo video Terzo se le altre persone Non siate pessimisti E continuate a chiedermelo Prima o poi saluterò bene o male tutti Mi raccomando lasciatemelo anche qui con un commento Perché ogni tanto cambio anche il social Non è sempre il classico Instagram E ora direi che possiamo iniziare Come prima cosa partiamo dal regalo che mi ha fatto mia sorella Mia sorella infatti mi ha fatto un regalino di Pandora Oddio mi sono incastrata l'unghia Mi ha fatto appunto questo regalino di Pandora Poi vabbè questa dedica molto molto carina Questo sacchetto E si trattava di un ciondolo Infatti io a Pasqua Ho ricevuto dai miei genitori Il braccialetto della Pandora Quello con i charms Che poi bisogna appunto andare a scegliere i charms E appunto metterli nel braccialetto E me lo avevano regalato Questo qui con la chiusura a cuore E poi avevo già un paio di ciondoli Veramente stupendo Avevo già un paio di ciondoli E quindi mia sorella poi me ne ha regalato un altro E si tratta di questo qui Che sarebbe un cuoricino Creato da delle insenature Possiamo dirlo E con un centro Un diamantino Da sotto i due lati Perché appunto ha due lati Ed è questo diamantino Violino, lillino Questo ciondolo è di una serie Tra virgolette Infatti esistono vari colori al centro Di questo ciondolino qui Ci sono vari colori al centro Infatti ogni colore è attribuito a un mese Questo in particolare è il mese di maggio Che non ha nessuna importanza per me Però appunto era il colore più carino Quindi non ho badato al fatto del mese Ma ho badato più che altro al colore Diciamolo, io lo so che ogni tanto Ricevo un ciondolo Perché ovviamente avendo il braccialetto È bello continuarlo E niente Poi nel sacchettino c'era Il certificato E quindi è questo qui Il ciondolo comunque Però con un altro colore E niente Quindi tutto qua Continuiamo con il regalo Dei miei amici Quindi ho fatto una mini mini festa Con Martina, Giuliana, Francesca e Asia E appunto sono venute a casa mia Queste tre mie amiche E niente Poi siamo andate fuori a mangiare Però questo è un altro paio di maniche Quindi appunto siamo Sono venute a casa mia Abbiamo mangiato le crepe E la cioccolata calda Poi siamo uscite E siamo andate a mangiare l'hamburger In questo posto molto molto buono A mio parere Che lo vedrete presto anche in un vlogmas Perché appunto ci dovrò riandare con la Marti Comunque iniziamo proprio da lei E vi faccio vedere subito il suo regalo Devo dire che quest'anno Sono stata veramente molto fortunata E mi hanno regalato veramente Le mie amiche in particolare Mi hanno fatto dei regali molto molto belli Molto Che vengono tipo dal cuore Quindi sono state veramente molto dolci Quindi appunto Dicevamo la Martina Mi ha regalato intanto Dei prodottini di Kiko Che sarebbero questi qua E si tratta di questi tre ombretti Di questa linea Che non ho la più palida idea Di che linea sia Questi tre E sono 09 02 E 07 Quindi sono appunto Un rosato Un dorato E un argentato Molto molto in tema Di Natale Delle feste In più c'è quest'altra matita labbra Che ho amato Che è diventata veramente minuscola Che è la numero 302 Di questa linea Di Natale Credo Perché è tutta Bellucicosa E È diventata veramente molto piccola Perché quando la volevo mettere Io mettevo Temperavo Con appunto Il mio temperino E questa si sfaldava E la punta Non veniva mai Bella Infatti al momento è così La punta Ed è bruttissima Ti fai male Mentre lo metti E quindi Ogni volta si spezzava la punta E praticamente si sfaldava Questo Questa matita Che comunque il colore È molto molto bello È questo rosa Troppo troppo carino Però appunto Purtroppo L'ho quasi finita Quindi penso che Me la andrò a ricomprare Molto probabilmente Sempre la Marty Mi ha regalato Un paio di fotografie Che sarebbero queste E si tratta di Delle foto Che hanno tipo Un effetto stile Polaroid Che appunto Qui hanno la banda bianca Non è proprio Polaroid Però È in formato Cioè È in formato F2 forse E appunto Ci sono Delle foto Ci sono alcuni momenti Del Del giorno In cui siamo andati Alla Mondadori Appunto A vedere i nips Poi c'è appunto Il mio bellissimo Idolo Stepney E quindi ha deciso Di stamparmi Una foto Anche di lui Poi c'è una foto Con Me la Franci E la Marty Me la Marty Me la Marty Me la Franci E la Marty In versione Sceme E poi appunto Si ritorna Dall'inizio Sono veramente Molto molto carine E praticamente Da quando abbiamo iniziato A frequentarci di più Al di fuori della scuola Fino a praticamente Ora E poi appunto Lei mi ha fatto un regalo Un regalo veramente Molto molto grande Molto molto bello E sarebbe Questo Praticamente Ora non ve lo posso alzare Tantissimo Perché Si tratta di Un puzzle Ok Con la foto Con la foto Con la foto Stavo preoccupando Con la foto appunto Del giorno in cui siamo andati a Milano Da Emeza Alla Mondatori In cui ci siamo Io Martina Francesca Sara Poi Un'altra ragazza Che abbiamo incontrato lì Altri due ragazzi Di cui non sapevamo L'esistenza E poi appunto I nostri Quattro idoli E quindi Ciao Stephanie E quindi È stato veramente Un gesto Molto molto carino Nei prossimi giorni Cercherò Di comprare Di Raccattare Un quadretto Delle giuste misure In modo che possa Appenderlo Da qualche parte E conservarlo bene Perché è veramente Un gesto Veramente Molto molto carino Sempre la Marti Inoltre Mi ha fatto Un cartello Troppo troppo dolce Che racchiude Più o meno La nostra amicizia E quindi È stato veramente Molto carino E quindi Niente Mi è piaciuto Veramente Molto 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 E quindi Anche questo Lo conserverò Insieme a tutti gli altri regali Passiamo poi Il regalo di Giuliana Che mi ha fatto Un regalo Veramente Molto molto carino Oltre anche a lei Ha una letterina Cartellino Non so come chiamarlo Con alcune fotografie Molto molto carine Questa scritta Mi ha regalato Un profumo Che è veramente Buonissimo Cerco di Tirarlo fuori Si tratta Di questo profumo Che è Della marca Erbolario Alla Profumazione Acqua di rose Allora Io la mattina Cerco sempre Di mettermi Il profumo Poi ci sono La mattina In questo Ma è di freddissimo Quindi non lo metto E quindi L'ho già Un po' Utilizzato Non tantissimo Ovviamente Perché ce l'ho Da poco Però Un po' L'ho già Utilizzato E vi dico Che Il profumo Dura molto Sui vestiti E poi Vabbè È veramente Molto molto Buono Cioè Io sarei Tipo E così È veramente Buonissimo Buonissimo Veramente E appunto Si tratta Di Acqua di more Scusate Non so Se avevo detto Prima More Muschio Probabile Comunque Acqua di more E Veramente Molto molto Buono Anche il packaging È carino Ora che Ve l'ho fatto vedere Potrò Selezionarlo E metterlo lì Insieme a tutta L'altra La mia collezione Di profumi Passiamo poi Ad Asia Che mi ha regalato Questa magliettina Che mi vedete Già indosso Che avete già visto Su Instagram Se mi seguite Se non mi seguite Sui miei social Li trovate giù In l'info box Ci sono su Instagram Su Musical.ly Twitter Facebook Ma non li uso molto Snapchat E Ask Cioè io Ho sia i social E più Sotto in l'info box Trovate anche la mia mail Quindi vi raccomando Dateci sempre un'occhiata Perché trovate anche Molte informazioni Su di me Devo aggiornare poi Perché non ho più 12 anni Devo aggiornare 13 anni E poi trovate E poi trovate molte informazioni Su come registro Il cavalletto La videocamera Le luci E cose così Quindi appunto Vi dicevo Si tratta di questa maglietta Molto molto carina Che è un po' più corta Cioè sta un po' più corta Cioè neanche tanto E praticamente Ha questo dettaglio Qui Dell'unicorno Qui È molto semplice È grigia Ma c'è anche In bianco E poi appunto C'è l'unicorno Che I love unicorni Questa è una maglietta Di Stab Do It E poi ho voluto Conservare Dov'è? Ah ecco Ho voluto Conservare Il L'etichetta Che era appunto Attaccata alla maglietta Insieme appunto La taglia Quelle cose lì E Che diceva appunto All mine E quindi Niente C'è questo coricino Rosa Che andrà a finire Subito nella mia bacheca E anche lei Mi ha fatto una Letterina Molto molto dolce Passiamo infine A Francesca Che sarebbe Anche lei Una mia migliore amica E mi ha fatto Un regalo Veramente Molto molto speciale Che è piaciuto Non solo a me Ma a tutti Infatti Mi ha regalato C'è veramente Una cosa Molto molto bella Infatti Mi ha regalato Questo qua Che sarebbe Un quaderno Un quadernetto Nostro Quindi mi ha fatto Questo quaderno E si tratta Di un quaderno Con tutte le nostre foto Con tutti i momenti Belli e brutti Che abbiamo passato insieme Quindi con delle frasi Che ogni volta Rappresentano appunto Le foto che appunto Ci sono messe E ci sono foto Mie Sue Nostre E questo Ve lo faccio vedere E poi È tutto in sfondo Rosso Rosso con i cuori Rosa Rosa con i cuori E È veramente Molto molto Bello E ci sono foto Imbarazzanti Foto Belle Quindi non Imbarazzanti Quindi è Veramente Una cosa Stupenda E quindi Lo conserverò Sicuramente Molto molto Bene E È stato veramente Bellissimo Sinceramente Di ci vedere Una cosa del genere Quindi ci sono rimaste Veramente Molto molto Bene Si può dire E poi Soprattutto Alla Lettera Che mi ha fatto Lì Sono crollata Veramente E quindi Niente Mi ha fatto appunto Commuovere Con questa letterina Che Appunto Ha colpito I nostri momenti Più belli Già quando ci conosciamo Che sarebbero Più o meno 12 anni Però appunto La nostra amicizia È nata più o meno Alle elementari Quindi E E quindi È stato veramente Molto molto bello Questo gesto Sia la lettera Che mi fa più o meno Sempre Sia il regalo In sé per sé Anche i I miei nonni Mi hanno fatto Una lettera Infatti Mi hanno fatto Entrambi Una busta Quindi Bustina Con la solita Paghetta Che non manca mai Dai nonni Quindi Due bustine Appunto Con dei soldini Dentro Appunto Da conservare Oppure da Tenire Per farsi Un autoregalo Chissamai E infine Passiamo All'ultimo regalo Che sarebbe Il regalo Dei miei Genitori I miei genitori Hanno finalmente Ascoltato Le mie lunghe Prediche Del tipo Il mio cellulare Non va Il mio telefono È rotto Si muove Il vetro Cioè Ve lo giuro Si muove Il vetro Ha i bordi Gialli Si impalla Si scarica Dopo due minuti È rincoglionito Il cellulare È rincoglionito Quindi Dopo tutte Queste prediche Avevano deciso Di regalarmi Un nuovo cellulare Ma non perché L'avessi chiesto io Anzi Io non me lo sarei Mai aspettata Ma appunto Hanno deciso Di regalarmi Il nuovo iPhone 7 Della colorazione Rosa Perché Mi va rosa E quindi Mi hanno regalato Il nuovo iPhone 7 Rosa E quindi Eccolo qui E Io sono veramente Molto molto Fomentata Perché io prima Avevo un 5 Normale Quindi ora io posso fare Tac E ho già acceso il cellulare Yeee Quindi So che molte di voi Mi insulteranno Perché Ho un iPhone 7 Però Come dico sempre Non siete voi I miei genitori Possono fare Quello che vogliono Perché È pazzo Quindi Se i miei genitori Hanno deciso Di regalarmelo Un motivo c'è Quindi Dopo Gli insulti Possiamo passare Oltre Ma sono molto Molto sicura Che molti di voi Mi chiederanno Il what's my iPhone Quindi Siccome io lo prevedo Già Qui Nella I di informazioni Vi chiedo Se appunto Lo volete o meno Con un sondaggio E fatemelo sapere Perché Ve lo potrei fare Senza problemi Oddio Stavo andando Nelle immagini E quindi Ve lo posso fare Senza problemi Devo ancora finire Di sistemarlo Di scaricare Tutte le applicazioni E lo sto finendo Di riordinare Perché al momento È proprio come era Prima Con l'iPhone 5 E quindi Niente Proprio oggi Ho letto in commento Vale Fai il What's my iPhone 5 Aggiornate O io Ci ho riso su Perché è veramente Una cosa Molto brutta Nascondervi le cose Già Come ultimo regale Invece vi mostro Tanti 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 Dei commenti Che mi avete lasciato Mi avete detto Appunto Aguri E quindi Volevo dirvi grazie Perché Su Instagram Non l'avete fatto Veramente Moltissimo Gli auguri Prima che io Tipo caricassi Una foto Quel giorno Mi avevate già fatto Gli auguri In foto precedenti Quindi siete state Molto molto carine Perché ve lo siete ricordate E quindi Grazie Tanto Tanto love Ma tranquille Tra poco ci sarà Un altro Compleanno Chissà di chi Forse nostro Non lo so Niente ragazzi Io spero che I miei regali Magari lo poggio Ora Niente ragazzi Io spero che I miei regali Il casino che abbia fatto Sia stato Ricompensato In qualche modo E niente Io vi mando Un grosso bacione Fatemi sapere Se hai i regali Il video vi è piaciuto E se appunto Volete il vostro Ma di iPhone Niente Io vi mando Un grosso bacione E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Grazie.